Bello a tutti ragazzi sono Zanzo, bentornati sul mio canale e oggi siamo nel 34esimo episodio della serie principale di Minecraft Allora ragazzi, voglio innanzitutto il vostro aiuto, cioè prima di iniziare questo episodio Ragazzi stavo pensando di utilizzare all'interno di questa serie una shader pack Però ragazzi io non conoscendo perfettamente tutte le shader pack, le migliori, diciamo quelle più leggere o quelle che danno i dettagli più belli Ho bisogno del vostro aiuto, quindi ragazzi per iniziare, oltre a lasciare like naturalmente Scrivetemi sotto nei commenti un shader pack, una shader pack che potrei utilizzare all'interno di questa serie Ragazzi molto importante perché veramente voglio iniziare ad utilizzare la shader Perché comunque è figo vedere tipo il realismo in Minecraft nonostante sia un gioco basato sui cubi Quindi ragazzi se mi commentate con il nome di una shader io sono molto contento Poi ragazzi ho letto i commenti del precedente episodio che al momento ha fatto mille miliardi di like E ragazzi mi avete detto, mi avete consigliato, piuttosto che incantare l'arco, di incantare la canna da pesca Questo perché? Perché ho cercato anche su internet ed è vero questa cosa La probabilità di trovare come incantesimo fortuna del mare è molto più bassa rispetto a quella di trovare Mi sono accorto adesso di non avere un anvil, stavo dicendo di trovare potenza 4 Quindi ragazzi ho bisogno di una anvil, quindi col ferro mi devo fare una anvil senza dubbio Allora per fare l'anvil dovrebbe essere tipo 3 blocchi così e poi così, perfetto Sono riuscito a farmi 8 lingotti di ferro, mi sono rimasti madonna Ok tu adesso muori, non venirmi addosso perché se mi infuochi, mi infiammi, mi girano lo scohones Allora la anvil la piazziamo, la piazziamo, la piazziamo Io direi tipo qui vicino ai libri, anche se è brutta da vederci però almeno non devo fare troppa strada Prendiamo il libro con fortuna del mare, piazziamo la nostra canna da pesca Il nostro libro incantato e filiamoci la canna da pesca con fortuna del mare 3 Poi mi avete anche detto ragazzi di utilizzare, allora, dov'è? Eh, contraccolpo 2, ok, questo affilatrezza, affilatrezza soprattutto Affilatrezza 3 e contraccolpo 2 sulla spada di diamante Facciamo subito E poi di utilizzare l'altro affilatrezza, affilatezza 3, in che non riesco a parlare Per avere la, eh, praticamente affilatezza 4 dovrebbe essere Perfetto ragazzi Adesso abbiamo anche una spada con affilatezza 4 e knockback 2 praticamente Con 9,5 danni per colpo Minchia, 3,5 danni in più rispetto alla spada di ferro Adesso ragazzi, vi porto dietro anche un po' di netherrack Perché vi faccio vedere cosa voglio fare Sono andato a leggere anche tipo i commenti indietro Di molti video indietro nel caso in cui mi fossi perso qualcosa E mi sono accorto che un ragazzo Non mi ricordo mai come mi chiamate, scusate ragazzi, però capitemi Mi aveva scritto di fare Dove ho praticamente il portale del nether Di fare una sorta di isolotto demoniaco Come se tipo il male stesse prendendo il sopravvento in questo mondo Quindi voglio provare a fare qualcosina Vediamo se viene qualcosa di carino Tra l'altro avevo già provato anche all'inizio del video A mettere qualche shader Utilizzare tipo quello che usavo nella serie vecchissima di minecraft Quella con tutte le mod Ma veniva relativamente male Quindi ho preferito lasciar perdere Allora Vediamo di fare qualcosa di figo Quindi se il mondo prende Cioè se i cattivi prendono il sopravvento Possiamo pensare a fare una cosa di questo tipo Allora così Mettiamo qua Qua dietro facciamo tipo Uno Due No Ho sbagliato Shotata Mamma mia Tre Quattro Cinque Sei E sette Ok Tipo così Che sembra che I cattivi stanno prendendo il sopravvento In più Tipo questi qua magari laterali Sperando che non vadano a intaccare tipo il portale Magari questo qua e basta Che è il più lontano Questo E questo Non dovrebbero creare problemi In teoria ragazzi Fatemelo sapere in me se non i commenti Praticamente ragazzi guardate Qua intanto mettiamo tipo delle torce Cioè sta cazzo di mosca Vedete C'è tipo un mini parkour sull'acqua Che Ecco Ho già failato Che arriva Praticamente poi al Al portale del nether In modo da Innanzitutto Ci metto molto di meno Per arrivare al portale Ok Come potete vedere E poi È una cosa Mi sembrava abbastanza carina Dai Fatemi sapere nei commenti Se vi piace come idea Questa cosa Ok Nel frattempo qua fuori Muoiono tutti Perché sono tutti Dei figli della merda Ragazzi Allora Aspetta Ho paura che poi non muoia Ok Peschiamo Cerca Allora dobbiamo puntare sicuramente Ad avere una sella Però vediamo anche magari Se abbiamo fortuna E se troviamo tipo qualcosa Di interessante Dai Peschiamo da qua Vediamo se Abbiamo la fortuna Di trovare qualcosa Deciso di cambiare zona Ragazzi Per un semplice motivo Non riuscivo a capire Da là Non riuscivo a capire Tipo quando Quando abboccano le cose Sperando che non arrivi Nessuno A rompermi la minchia Dai che ci sono le particelle L'intorno Adesso pesco L'ilo squid Dai Guardiamo le particelle Ok Un pesce Fortuna del mare 3 Mi hai fatto trovare Un merluzzo What the fuck Un merluzzo Merdoso Oh guarda là Guarda là Guarda là Che arriva 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 Oppa la lai Ecco un altro Un altro coso inutile Guardate ragazzi Per adesso cosa abbiamo trovato Ok si avvicina Oh Una canna da pesca Con ripristino Scrivetemi nei commenti Cosa serve ripristino Non so cosa sia ragazzi Veramente Sono un nabbo io Per quanto Mi piace pescare Perché anche nella realtà Mi piace pescare Però non so minimamente Cosa sia ripristino Quindi se me lo scrivete Nei commenti ragazzi Evito di andarlo a cercare In rete Tipo sulla wiki di minecraft Ci sta muovendo qualcosa Verso il mio amo Va sotto Dammi qualcosa Tipo un libro Una sella Teniamo sotto controllo Le particelle Ecco Tan 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 Vai sotto Pescato Un altro Pessie Un altro pessie Malissimo Malissimo ragazzi Solo dei gran pesci Sto trovando E basta Tan 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 Oppala Altro pesce Allora ragazzi Voglio provare a spostarmi Magari mettiamoci Tipo di qua Ok Tan 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 Oppala E un altro pesce Madonna sto trovando Un miliardo di pesce E basta Fuori al cavallo Del west Che beve solo caffè Oppala Uè Ah il gancio da filo Pensavo fosse tipo Una chiave All'inizio pensavo Fosse una chiave Ragazzi Sto dicendo Oddio Ho trovato la chiave Di un dungeon Anche se i dungeon Nella 1.10.2 Non ci sono ancora Eccolo che arriva Oh il pesce Quello per le Pesce palla Che serve per le pozioni E basta Se provi a mangiarlo Ci muore E basta Ce mori Taci tua Dai Sta Gli avamo Oh vedi Di sotto E un altro pesce palla De merda Proviamo a spostarci qua Abbiamo salvato il mondo Siamo degli eroi Dai ma non ti chiedo tanto Ti chiedo una sella Oh te ce ne sei vicina Mi hai fatto trovare Veramente una cordicella Sei serio Fortuna del mare 3 E trovo le cordicelle Ma vaffanculo va Allora abbiamo un mare Qua davanti a noi Proviamo A cercare qualcosa Qua nel mare Va bene Allora ragazzi Visto che Non trovo una minchia Di niente Ho trovato altri pesci E basta Voglio provare A spostarmi Verso Lo spawner Di scheletri Che Andrea Ragazzo Che mi aveva Praticamente Fatto trovare Lo spawner Di scheletri All'inizio Ho detto Spawner di scheletri Voglio dire Spawner di ragni Comunque Voglio spostarmi Verso lo spawner Di ragni Che il ragazzo Che mi aveva Aiutato a trovare Lo spawner di scheletri All'inizio serie Mi ha consigliato Nei commenti Allora Vediamo I ragni Sono Sono a X 59 Minchia lontanissimo Y 42 Quindi neanche troppo sotto 219 Dovrebbero essere Qua all'incirca Adesso non so Se sopra o sotto Ma dovrebbero essere qua Dovremmo esserci ragazzi Dovrebbero essere qua Eccoli Ok Però adesso Stiamo attenti C'era anche una ragazza Che mi aveva scritto Di questo spawner Credo Sia lo stesso Penso Aia Mi aveva detto Vallo vedere Perché nelle chest C'è roba interessante Quindi adesso Mi sono incuriosito E voglio vedere Cosa c'è dentro In teoria Non dovrebbero uccidermi A parte che C'è sempre tempo A utilizzare Mortacci tua Mori Mori Ok Qua chiudiamo Vediamo se c'è qualcosa Ci sono dei dischi C'è una targhetta Posso lasciar giù qualcosa Che non mi serve qua Dai dimmi che c'è una sella Ma che palle Non c'è una sella Sono solo dischi E basta Torniamo a casa Ragazzi Siamo molto unlucky Siamo molto 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 unlucky Con questi cartelli Andiamo a mettere Nella stanza Numero 1 Il primo nome Del ragazzo Che ci ha aiutato In questa serie Attacchiamo qua Come se fosse un quadro E mettiamo Andrea E su cosa mi ha suggerito Mettiamo Spawner Ragni Ok Spawner Ragni Fatto Perfetto Quindi abbiamo messo Finalmente Il primo Partecipante La prima persona All'interno Della casa Degli iscritti E tra l'altro Adesso Non vedo l'ora Che arrivi la gente Sotto nei commenti A scrivermi X di zanzo Copi furri Con la casa degli iscritti Peccato che io L'ho fatta Tipo 10 episodi Fa la casa degli iscritti Però vabbè scialla E comunque non è flame Nei confronti di suri Ragazzi Perché ci ho parlato Con lui Su sta cosa La casa degli iscritti Ci abbiamo rego Ci abbiamo scherzato Anzi Io ho detto Nel prossimo episodio Quando la termini Magari se mi citi Mi arrivano un po' di iscritti Mi sono preso 10 secchi di lava Non perché sono Cretino Demente Perché voglio iniziare Ad abbellire Il passaggio Quello segreto Diciamo Ok Di qua Perfetto Il passaggio Quello segreto Però qua ragazzi Devo alzare di uno Perché Se no quando arrivo Ci picchio la gaboccia Stavo dicendo Voglio iniziare Ad abbellire Quello che è Il passaggio segreto Quello sotto Alla La piscina Quello sotto All'albero Decidete voi Sotto cos'è Ok qua Spacca Lascialo giù Perché tanto non ci serve E poi farò anche Le rails Per scendere ragazzi Naturalmente Verso la farm di slime Mi servono I Mi serve Questo ferro Il problema ragazzi Adesso Non mi ricordo Come si fanno Le grate 1500 like Per zanzo Che al primo colpo Ci ha ricordato Come si fanno le grate Mamma mia Lo so Sono un nabbo Ragazzi Però D'altronde Io mi esalto Per ste cose Cosa ci volete fare Iniziamo A mettere La prima qua La seconda qua Terza Quarta Quinta Sesta Ci sono avanzati Due secchi Molto bene Che adesso Qua facciamo Uno due Uno due Uno due Uno due Guarda giusti C'è neanche farlo apposta Madonna ragazzi Quanto sono forte Sono fortissimo C'è Come al solito Quando io termino Di fare delle cose È sempre notte Quindi andiamo a dormire Con la cosciotta Di maiale Penso La bracciola Di maiale Cotta in mano Ok Adesso che facciamo Riempire Praticamente Quella Quella zona lì Nel prossimo episodio Magari andremo a recuperare Un po' di cibo Anche se effettivamente C'è di cibo Ne abbiamo Per adesso Ho queste dieci costolette Ho anche la carne Di pecora Di pecora Pecora confirmed Ciao pin Qua Perfetto Funziona la farma Ragazzi Ottimo 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 E niente ragazzi Allora Questo trentaquattresimo episodio Termina qua Consigliatemi Cioè Datemi dei consigli Anche chi ha scaricato la mappa Magari Mi dia delle coordinate Nel nether Dove posso trovare tipo Una Una fortezza In modo che poi All'interno della fortezza Trovo le selle E posso iniziare a viaggiare In giro per il mondo Ragazzi Perché Veramente Mi sto stancando anch'io Di restare qui a casa E quindi Se mi date una mano Magari Finiamo prima La situazione qua del mondo Andando in giro Per i vari biomi Quindi ragazzi Io vi invito a lasciare Un bel mi piace a questa serie Perché comunque ragazzi Anche l'episodio di oggi È andato alla stragrande Lasciate un bel commento Aiutandomi Nella mia avventura E scrivetemi anche nei commenti Cosa me ne devo fare Delle due targhette Che ho trovato oggi Dove c'era lo spawner dei ragni Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Qui da Zanzia è tutto Un bel saluto E perla Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo